Signori iBoy, film Netflix del 2017 è un fantascienza, sì, ma è fantascienza un po' commedia diciamo, non è un capolavoro, è un 7.6, 7.7, è un po' per bambini, è carino però, è una roba diversa, non è fatta come chissà che cosa, però va bene così. Un saluto a tutti, iscrivetevi al canale, mettete mi piace, ciao ciao!